Cari concittadini, buona domenica. C'è una profonda crisi di valori nella politica versana. Hanno deciso di lasciare la città allo sbando e senza una guida politica per sei mesi e ora pensano solo a come ritornare al potere per gestirlo. Noi in questi mesi abbiamo riflettuto e osservato e crediamo che sia doveroso non arrendersi allo stato delle cose. Abbiamo fatto grandi sacrifici e non vogliamo che siano vanificati. Vogliamo continuare il percorso di risanamento delle casse del comune, come vogliamo continuare a combattere l'evasione e i furbetti. Vogliamo continuare a difendere la dignità della persona, superare le disuguaglianze, eliminare le periferie esistenziali e ridurre la povertà educativa. Vogliamo dare voce agli avversani che credono in un modo di fare politica onesto e trasparente. È tempo di organizzarsi e il tempo delle scelte. Incontriamoci, partecipiamo. Grazie. 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 Grazie.